Oggi alla luce dei fatti che vediamo mi viene da pensare che noi avevamo richiesto nel nostro municipio la commissione garanzia e controllo ma non ci è stata data. Vediamo che comunque all'interno del municipio questo discorso che si è fatto e questa filazione della mafia capitale è arrivata a toccare anche il nostro municipio e di fatto se avessero potuto darci la possibilità di essere presenti tramite questa commissione probabilmente avremmo potuto tirare fuori queste questioni molto prima.